Il mio marito è la donna di Paolo, il mio marito è il Chiot. La nostra vita è stata inestita, e la mia voce è arrivata a 16 anni. E faccio qualcosa, che ho scoperto. La nostra vita è stata inestita. era l'amore. Il suo figlio Cervagge è una cosa che gli siamo a nonna in eredità e mi ha detto che la faccia, che non devo dire a nonna se non la serve. E ogni tanto gli arriva qualcuno a fare il suo figlio Cervagge. Eh, che dire, le parei ma vita. Qu'è qui le due è di pompello? Qu'è qui le due è di pompello? Qu'è qui le due è di pompello? Cervagge Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.